È stata celebrata nella chiesa del cimitero di Assisi la Santa Messa in ricordo di tutte le persone che sono decedute in questo periodo di emergenza da coronavirus e che non hanno potuto ricevere l'ultimo saluto in chiesa con la Messa funebre, ma con il solo rito funebre al cimitero. Alla celebrazione eucaristica presieduta da Don Cesare Provenzi, priore parroco della cattedrale di San Rufino, e concelebrata da Don Massimo Bertoncello, amministratore parrocchiale della parrocchia di San Pietro, ha partecipato il sindaco di Assisi Stefania Proietti.